E per tutti ragazzi e per tutti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qua su Fall Guys ma su Fortnite Avete capito bene? Siamo qua in compagnia anche di Loned e Alberto Sempre in me i due compagni di video E ci siamo anche vestiti a tema Io Skin del pomodoro Alberto Skin del gatto che dovrebbe essere il lupo E Loned non si sa perché ma sempre quella papera Sempre quella Però vabbè ok Complimenti Comunque questa qua dovrebbe essere O slime climb O full mountain In base a come Non lo so delle due però Una delle due sicuro Non lo so Eh guarda guarda C'hai ragione anche te Però si vabbè ok Continuiamo a cadere giù sotto Guarda 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 Eh? Niente non parlavo con te Ah ok a posto Ok qua c'è buggata ma ok Meglio così per noi Guarda dietro Ricordiamo che qua ci sono i checkpoint solamente sopra Ma se cadi sotto e prendi checkpoint sbagliato Sei praticamente fregato Quindi qua Se cadi di sotto sei fregato Sei vabbè sei fregato Va bene Va bene Qua verde e rosso Quando è verde si può passare come in strada normale Ciao Alberto La domanda chi è primo Chi è primo tra voi due Secondo me Alberto Dai Ma sì va ecco Appunto Dicevamo che se torni sotto sei fregato Ma io perché devo fare queste mappe che non sono capace Io qua devo stare attento Camminiamo normali Ma io le vinci Sì Certo guarda eh L'unica critica di questa noppa che abbiamo già provato è Mi fregamo Voi che vedrete il video Lui le vince tutte Sì 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 Solo che fa il modesto nei video E ci fa vince No 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 Fè fè Oh Fermo Non andare giù ancora che mi sono rotto le balle Oh Ho visto la bellezza nella morte di Alberto La bellezza nella... Ok Io mi indissocio da questa cosa Eh? Ma che arte Ma cosa non fa arte? O cosa non è anche capace a colorare? Cosa vuole fare di arte? Comunque stavo dicendo L'unica critica che possiamo fare a sta mappa È la finale In hexagon Che è fatta Ma dico solo è fatta un po' male Secondo me Ah ma entrambi c'è arrivati? Ah maledetto Aspettiamo il verde anche qua E qua di sicuro cado Io già lo so che qua io cado Perché già lo so che cado Quindi è inutile che No 20 secondi 20 secondi No 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 Ma sei matto Ah se non arrivo non va bene Perché vai in svirgolo? Perché? Perché è tutto storto? No se perdi la parte la tieni Ma dai Che Anche solo l'inizio ma la tieni No 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 Sono arrivato Non vale Quindi già che ci siamo Anche se sono morto Facciamo vedere la finale Per quello che dicevo io Che ha fatto un po' malino È l'hexagon La paperella potrebbe vincere Anche se Il lupetto Che poi è un gatto Eh Io so perché S'hanno fatto S'hanno fatto S'hanno fatto Perché S'hanno fatto Per la fine Dai diciamo Perché la finale era brutta E la mappa S'ha punita Eh può essere Può essere Adesso come Come intravedete qua sotto i gialli La parte verde E successivamente tutti gli altri colori Non ci sono tutti Come nell'hexagon coloro vero Cioè ci sono delle varie parti Dove c'è e dove non c'è Questa è la critica Ecco vedi No Questa è la critica che faccio A questa mappa Sai com'è Se saltavi di più forse Vabbè ha vinto Alberto Non ci lamentiamo Facciamo il secondo round Perché io Di perdere la prima Io mi arrabbio Io te lamentavi Eh beh certo Perché te lamentavi Secondo round Speriamo di arrivarci Micione Dalla cavolo Si il problema è che Mi continuava a buttare giù all'inizio A me Non Ho perso tempo lì Ma non funziona Porco A me ha sempre funzionato Ma allora Ma c'è anche il trucchetto Se le palle che escono qua Non esplodono Cioè ti rimangono Buggate lì Quindi anche quello è un trucchetto Vabbè questo dovrebbe essere easy Mi prende in giro il gioco Ma perché colpisci continuamente Ok 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 Parte verde Anche se non mi fido per niente Ok Verde E andiamo Chi è che c'è il primo Loned secondo me No 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 Io sto dietrissimo Ah ok Allora c'è Alberto all'inizio Io qua che mi frego Guarda là il gattone Del cavolo Mannaggia il gattone Vai 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 Almeno a questo round Devo passare Ma quando mai Ma non dovrei essere un lupo Per finta Si va bene Ah ok Ma si eh Confondiamo le skin Tanto per Ok Io e Alberto Siamo qua sopra Ok dai 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 Adesso fallo bene Sto cavolo di Ma se io sto davanti a Alberto Come stai a dire qua sopra Come qua sopra Come Ah è vero L'ho sbagliato io Ho visto male Vai 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 No Ok 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 Calmi Ok Spirito il ghiaccio Easy Andiamo diretti In prima posizione Per voi Anche se Come ben sapete Su Fall Guys Basta arrivare Non interessa la posizione Non c'è Lone Dino Che sta la fe No è Alberto Lone Dio Che stai Ok è già arrivato Spezziamo il nostro amico Albertino Che probabilmente Passerà al secondo round Che è Non ve l'ho fatto vedere Ma è Durbash Durbash Come si chiama Oltre le porte Insomma Quindi Secondo Minigioco Che è il Durbash Ok Durbash Si chiama Caricante Sfondare le porte Solo che Se non le becchi Ok Prima posizione Mi sa che si Qua tanto non sarà Vabbè palese Questa neanche Questa è Attenzione Vai 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 No Ho preso il muro Un altro muro No c'è rotto Ho preso il muro Fratelli Eh sì Ma probabilmente Che non ero in macchina Ok Ok Quello a sinistra Sicuro Quello a sinistra Guarda chi hacker Ma Guardate Ok Secondo avverto Terzo Mi dispiace Tanto qua Si qualificano in 5 Quindi C'è tempo Vediamo dov'è che è E non mi ricordo dove stava No non è questo qua Sì è questo qua Ma all'inizio Ah buongiorno Buon salve Sì la fiammetta Sì Ah quindi passiamo anche noi Alla finale Finalmente direi Eccoci qua Hexagon Siamo in 3 Eh probabilmente sì Il problema è che Alberto griffa in costruzione Cioè non Secondo me non vale Guarda come corre Guarda come corre Quel gatto Eh io male Vengo fregato No 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 Si vabbè Ma non è possibile Ma siete due Persone cattive Ma se mi siete passati davanti Entrambi Ma dai Ma che cavolo Proviamo a fare l'ultimo round Partita numero 3 Ripartiamo sempre Dallo slime Perché sono 3 mappe Quindi per 3 round diversi Ah ma non l'avevo detto Qua Chi si classifica in 10 Su 16 totali Invece in quella dopo Si classificano In 5 Vai 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 È verde ma Aspetta un attimo È verde ma non mi fido Un calverde che vado giù come un fagiolo E ho fatto apposta I fagioli di Fall Guys Non è che No Alberto Vai Vai No 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 Vai voleti Io non mi muovo da qua Eh Vai Che vuoi aspettare Lo Ned Ok Mamma mia Mamma mia Vabbè aspettiamo Dai Poverino Round numero 2 Solamente che siamo rimasti in 2 Perché l'Oned ci ha lasciato Doveva andare a fare Cavoli suoi E quindi Mi prendi per i fondelli Guarda eh Guarda Ma cacchio si faceva Guarda Ma porca miseria Vieni qua Devo capire il ballo Ma Non riesco a capire Fai il ballo Vai Vai No Se pare E ancora con la sinistra Sicuro come la morte Vabbè Quindi di nuovo in hexagon Sperando che Vai Vai 3 2 1 Vai No Sono stupido No 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 Guarda Guarda Alberto Che sei proprio Guarda Per fortuna che non parla lui Eh Però Già sa che È un È un Ma perché non si caspano più lenti E mo E mo E mo da faccio E mo da vado Eh Non ci arriverò mai la Vabbè Tanto Se giocassi A full guys O a fortuna Non cambierebbe molto Vabbè Vabbè Aggiunte È venuto È andato piano È arrivato Vincenzo Va bene Comunque Buono Complimenti Trovate il link Nel suo canale In descrizione Se vuoi andare a farci un salto È molto buono È molto buono Quanto la mia sconfitta In questa mappa Del È Non È oramai Il video è finito Quindi aspetti un attimo Eh Ho già ormai Eh Quindi grazie Sì sì Un attimo che muto tutto Che se no mi parte Sì guarda È intanto la transizione Mentre lui parlava sotto Bellissima Comunque ragazzi Iscrivetevi E mettete la campanellina Qua sotto Canale Di Di Vicento Già che è entrato Perché non metterlo Noi ci becchiamo In un prossimo video O mercoledì o domenica Già lo sapete Bella ragazzi Sì Grazie a tutti Grazie.